Doppio importante il risultato ottenuto ieri a Palermo dal sindaco di Ragusa Federico Piccitto. Per quanto concerne il futuro utilizzo di cava dei modicani, su pressante richiesta dell'amministrazione comunale, il dirigente generale del Dipartimento Acque e Rifiuti ha convocato per domani una conferenza di servizi presso il Dipartimento dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, al fine di completare l'iter necessario per il provvedimento autorizzatorio di AIA per il sito Ibleo. Nell'Emore, stante la situazione di potenziale nuova emergenza rifiuti alla scadenza dell'ordinanza temporaneamente emanata dal sindaco, il primo cittadino, dopo un confronto diretto con il presidente della regione Rosario Crocetta, l'assessore regionale Vania Contraffatto ed il dirigente generale del Dipartimento competente, ha ottenuto rassicurazioni sul fatto che sarà emesso dalla regione un apposito provvedimento che consentirà il trattamento meccanico-biologico dei rifiuti presso il sito di Cava dei Modicani, prima del conferimento in un'altra discarica. Continueremo a vigilare, afferma Piccetto, per verificare che quanto assicurato dal governo regionale sia rispettato nei modi e nei tempi prospettati. Non abbasseremo la guardia, anche perché non possiamo permettere che ancora una volta vengano disattesi gli impegni presi. Vista la volatilità delle determinazioni provenienti da Palermo, è assolutamente imprescindibile che si giunga a fatti concreti. La città di Ragusa conclude, non può attendere oltre.